Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione di Quattro chiacchiere un caffè. Anche quest'anno ho il consueto appuntamento quotidiano nel contesto del polifonico, con la mia collega Anna Passarini. Vi introdurremo ogni giorno a nuovi personaggi importanti per la vita del polifonico stesso o anche importanti ospiti che vengono a trovarci. Abbiamo qui oggi Claudio Santori, memoria storica del concorso, ma non solo, anche grande figura della cultura aretina a tutto tondo. Dal 1984 al 91, pensato un po', è stato coordinatore dell'Icio musicale di Arezzo, nonché suo fondatore. E ora, nel 1984, adesso sembra un po' banale, però nel 1984 era quasi fantascienza, perché non è che fossero proprio così frequenti i licei musicali. Cosa ti ha spinto a creare questa realtà in quel periodo? Allora, intanto grazie per la presentazione, grazie anche al direttore artistico per avermi invitato. Togliamo il quasi. Era fantascienza. Fantascienza, perché come sapete, i licei musicali esistevano all'interno dei conservatori, dove erano fortemente ospeggiati. Ricordo il nemico giurato dei licei musicali, Stupner, e un falso amico, ormai lo posso dire, penso che non sia il maestro Giglio di Firenze, che ostentava di proteggere il liceo musicale, in realtà poi si è scoperto che ne amava contro. Ma come mai, secondo lei? Perché la casta conservatoriale non ammetteva che si potesse studiare la musica fuori dal conservatorio. Ho detto, togliamo il quasi. Era santa scelta perché il liceo musicale di Arezzo è stato il primo in assoluto fuori di un conservatorio. E quindi sottratto alla casta. Tant'è vero che anticipo subito una cosa qua carina, siamo qui per dire cose anche spiritose, l'odio dei conservatori nei confronti dei licei musicali non nati nel conservatorio, però anche quelli dentro non erano ben visti, figurati quelli fuori, e si manifesta nel fatto che i nostri ragazzi, per decreto ministeriale, uscivano, i siati uscivano al quinto anno, il pianoforte usciva al settimo anno. Bene, i primi che uscirono furono tutti sistematicamente degradati all'anno precedente. perché, anzi, vi dirò di più, il nome tutelare dei licei musicali è stato Boccia che originariamente era conto, poi si convertì proprio in vista di quello di Arezzo e fu un collaboratore formidabile, era sempre presente, veniva tutti gli anni, a quell'epoca bisognava fare un esame di ammissione piuttosto serio, poi l'hanno fatto cadere, alla fine del secondo anno bisognava fare un esame di analisi e di storia della musica per essere ammessi al triennio. Le insegnavo storia della musica. Io insegnavo storia della musica e facevo il combinamento. e Boccia in persona veniva a fare gli esami. Era un aiuto, un appoggio. Poi abbiamo avuto un altro nome tutelare, il grande Andrea Palmelli, un amico grandissimo. Ma i primi usciti, i famosi primi dodici, erano bastonati, ma pensate che si partì in 1932, la selezione fu tremenda, ebbero tutti il mitico orto, ci voleva l'olto nella prova di strumento, e furono tutti ammessi al conservatore, però tutti degradati, naturalmente. Ma la cosa più interessante è che questo sistema ha funzionato. Perché? Perché, ora quando mi dicono fondatore del liceo musicale, io correggo, io non sono il fondatore del liceo musicale. Il liceo musicale senza di me non si faceva. Non è la stessa cosa. Nel senso che non c'era niente. Non c'erano dischi, non c'erano spartiti. Il comune fece uno sforzo gigantesco, comprò un pianoforte a coda, un pianoforte verticale, e si partì con... Quindi la formazione, se ne interrompo, era mirata ad essere non di nicchia, quindi a creare i professionisti, ma a divulgare. A divulgare. Però c'erano tutti gli estremi per creare i professionisti. Tant'è vero che tantissimi professionisti di quegli anni lì. Cioè, solo di quegli anni lì, compreso Lorenzo Donati. Voi pensate, tanti, lo Zacchini che insegna all'università, la Cartocci che fa la coce. C'è stato il terreno fertile per la città. E' dovuto al fatto che avemmo, e ora vi dico una cosa che è proprio di nicchia, perché non tutti la sanno, anzi, nessuno lo sa, quando l'esigenza nacque, perché vi ricordate le scuole medie a carattere musicale? Allora, a Dall'Alessio c'era una scuola media a carattere musicale, fortissima, che andava forte la Cesarpina. Quando i ragazzi della Cesarpina avevano finito, o andavano a Perugia o andavano a Perugia. I genitori non ce li mandavano, perché a 13 anni non li mandavano a Firenze o a Perugia. E allora cominciamo a lottare per avere il conservatorio, perché noi non abbiamo mai, non sapevamo nemmeno che esisteva il liceo musicale. Noi volevamo la sezione staccata del Cherubini di Firenze. Questo era il nostro scopo. E cominciamo, io scrivevo allora come ora sulla Nazione, cominciai una battaglia tremenda con lettere di gente che voleva... Se non che l'establishment a retino non lo voleva, perché erano influenzati dall'idea che il conservatorio era ormai vecchio, fatiscente, quindi Perugia ero considerato il capo dei retrivi, dei reazionari, degli addietrati che ancora blateravano del conservatorio. Quasi uno scontro a Don Camino e a Peppone. Don Camino e a Peppone, precisamente. La giunta di allora del conservatorio non ne voleva sapere. E nel momento in cui il ministro Bodrato avrebbe concesso questa sospirata sezione staccata del Cherubini l'ha giunta a retina. Non la voleva, non ci fu persa. Quando poi il sindaco Ducci, bene merito, si convertì in una serata famosa organizzata dai Lions, in cui fui chiamato io a fare appunto la parte del sostenitore del conservatorio e il sindaco Ducci, io feci una sparata di difesa nel conservatorio. Quando finì tutti si voltarono verso Ducci pensando che ora ci sarebbe stata la vissa. Ducci guardò e pronunciò cinque parole. Caro, santo, dicono che si farà, sei parole. Aveva, era come si era convertito. Sì, ma in quel momento non c'era più un modlato e c'era la Falcucci. E la Falcucci era finita. Quindi quando l'avrebbe dato il ministero si perse un treno. Dopo si perse lo stesso. Ora l'ultima chicca. Quando andammo dalla Falcucci, una commissione, e quando andammo io, l'insegnante di storia della musica della Cisalpino, la Perotti, l'assessore alla cultura, che era il dottor Greco, andammo a Roma dal ministro. Greco si portò dietro un magnifico petrarca rilegato in pelle che era stato fatto dal comune per regalarlo alla ministra. Entrammo alla ministra, la Falcucci, e quando venne fuori il conservatore, la Falcucci picchiò il panno alla mano e disse, nel mio ministero, sezione staccata e non se ne dà. Il dottor Greco si alzardò a dire, ma veramente a como è stata data la sezione staccata del Verdi? La Falcucci, no! Quello è stato l'ultimo atto di moderato, guardate le date. Noi, il dottor Greco riprese il suo fracca e il suo fraccio. Eravamo tutti mortificati. La Falcucci allargò un sorriso e fece, vi darò il discello musicale. Se lo volevi. Sì! Non sapevamo cosa fosse. Non ce ne frega mai niente. Se lo dava. Ma il petrarca poi se l'ha preso? No, la storia del petrarca nasce come terza scelta. Questo non lo sa nessuno. Il sindaco Ducci, il provveditore, che era allora la Gasbarre, l'idea della musica in un liceo frasico era impensabile. Per ragioni storiche che voi conoscevano. Perché lei insegnava greco e latino. Io insegnavo greco e latino in un liceo frasico. Posso fare una domanda? Prego. Se mi interrompo. Che differenza c'era, in poche parole, ho trovato delle esperienze, non lo so, tra chi studiava, normalmente, insomma, aveva scelto un percorso di studi più che altro classico, e chi invece si adoperava per diventare un giorno chissà quando, o se musicista. Vedeva diversità di curiosità, di atteggiamento? No. Il fatto della formazione dell'individuo, se la musica d'assieme avesse un qualche ricaduta positiva? Direi di no. È una questione di curiosità. Cioè, il mio maestro, l'università, diceva, le materie, esistono i problemi. Quindi un cervello che risolve problemi, risolve tutti. Io ricordo un collega che è stato, ed è un grosso musicologo ignori, conoscetevi, abbiamo studiato insieme, e abbiamo avuto la stessa esperienza, la stessa curiosità. Non è che ci sia stata una... Poi, infatti, lui, invece di mettersi a insegnare greco e latino, si inizia a insegnare la storia della musica. E ovviamente è rimasta una... anche per me è rimasta una passione secondaria. Non è diventata mai una professione, mai una cosa primaria. Io direi che, se c'è la curiosità, purtroppo in Italia, qui il discorso si farebbe molto complesso, si vive ancora, in pieno, in un'atmosfera sostanzialmente crociana. Cioè, con tutto il rispetto per Croce, ma di rischio della musica. La musica ancora, 2019 in Italia, signori miei, non è considerata cultura. Ancora la recensione della passione, secondo Matteo, si fa nella pagina degli spettacoli, accanto alla recensione del film. Insomma, non è considerata cultura. Il travaglio, appena appena si comincia a intravedere che il travaglio del musicista, del compositore, è uguale a quello del pittore o del poeta. Ma il fatto che Croce risiutasse sostanzialmente la musica come cultura, ha influenzato fortemente nella scuola, sui miei, quando io insegnavo al liceo, al liceo classico, dei miei colleghi, ce ne saranno stati altri due che concepivano la musica come cultura. Altri due o tre. La maggior parte dei professori di lettere ignorano che è esistito palestrino. Non gliene frega niente. Ma anche il fatto che il conservatorio ancora tutt'oggi abbia un'alta dignità rispetto al corrispettivo delle faculty of music magari nelle università anglosassoni, da dice lunga. Ma questo è un altro capitolo che non apriremo adesso perché... Fatemi finire però brevissionalmente quel discorso del liceo classico perché il classico era il punto focale della cultura umanistica. Quindi la musica è proprio esclusa. Voi dovete capire che perché c'è la storia dell'arte nel liceo classico, non c'è la storia della musica. Le mani. Le mani. La musica senza strimpellare uno strumento non si fa. Allora, il gentile, di fronte all'ipotesi che il liceo classico fosse profanato da una professoressa che entrasse in classe con la fisarmonica su troppo... Orrore, capisci? Mentre, infatti, per legge, chi è che insegna storia dell'arte? Al liceo classico. Tensione. Chi non è nella scuola non ci fa caso a queste cose. Al liceo classico l'insegnante di storia dell'arte deve essere un professore lavorato in lettere o in filosofia con l'abilitazione della storia dell'arte. Nel liceo scientifico Gentile ammise, l'ha inventato lui, il liceo scientifico, io ero preside del liceo scientifico, ammise che ci poteva essere il disegno. Per cui l'insegnante di storia dell'arte era anche maestro d'arte. Al liceo classico no, perché non era concettibile che l'insegnante di storia dell'arte avesse toccato un pennello. Doveva essere solo un critico. Doveva essere una cosa e la musica quindi non si può fare. Però la musica sta nelle lettere. La lettura del grande da Dio Antico. La formazione di un uomo medievale o rinascimentale passava per... Certo, c'erano le arti del trivio e quelle del quadrivio e vi ricorderete che non si poteva conoscerne una in meno. O tutte o nessuna. Se tu non avevi tutte e sette le arti, quindi compreso l'astronomia e la geometria, tu non potevi definirti una persona lì. Adesso una domanda bruciapena. Chi dei due ha studiato lettere antiche? Boh! Lui! Eh sì! Vero? Questo è gesto? Sì, sì! Quando ero militare aveva un colonnello che mi diceva dopo quando lavoravo in un ufficio trasportico quando arrivava un ufficiale soltamente nuovo ci parlo cinque minuti e poi ti dico che studia fatto ci stiappava sempre. Comunque quindi per finire perché è una cosa dove si va sui massimi sistemi. Però due domande le toccano a te. Certo, certo. L'iceo classico quindi per questi motivi era la scuola impensabile. Infatti dove andarono il sindaco Ducci e la provveditora Gasbarre andarono alle magistrate. Dove incapparono in un preside non dico il nome perché Adarezzo è famosissimo il quale li cacciò in malo modo dicendo per carità la musica se no anche troppa se figurati sapete cosa sono le lezioni di storia della musica nei magistrati lui per lui erano anche troppi. Allora andarono prete che aveva mai che aveva mai conosciuto come spirito e era musicista appassionato. Ancora in seminario si studiava la musica. Lui leggeva Gregoriano e sapeva leggere Gregoriano ascoltava la musica gli prestava i dischi e lui mi chiamò e mi disse guarda questi signori vogliono fare il liceo musicale se ci stai si fa. ma certo che ci stai firmai per cinque anni poi ci sono stato nove ecco come era quindi il liceo classico fu una fortuna poi e ora la nota amara dolorosa ma dolorosa parecchio perché naturalmente essendo nato in un liceo classico quando a tavolino facemmo i programmi la prima materia che obbligammo è il latino il latino perché e mi ricordo che alcune mamme non lo volevano in latino io mi ricordo che mi dice signori mi alzo e me ne vado e ve lo fate da voi senza latino non si fa il liceo musicale qual è la cosa dolorosa sono riuscita a togliere finalmente peccato perché il latino è una lingua della musica in questi ultimi anni insomma i due versi della polifonia che conta in latino e uno deve cantare senza avere la tua padina idea di quello che canta almeno almeno un'idea ecco la storia della cinema e quindi così la latino causa sempre tragici problemi però è fondamentale ricordatevi che Bach insegnava insegnava a suon di capacione perché come sapete aveva un carattere molto irrascibile e ogni volta che sbagliavano un'accusa di un la bacchettata è di brutto e invece hai accennato il fatto che tu sei critico musicale per la nazione da più di un trentennio eh sì 40 anni ecco più di un trentennio hai potuto toccare con mano effettivamente il mutare dei parametri estetici cosa ti manca di più nelle esecuzioni odierne che invece un tempo riuscivi a cogliere con più frequenza e riuscivi a trovarlo e ti piaceva e invece cosa abbiamo guadagnato col passare del tempo ma io ti rispondo che abbiamo guadagnato su tutta la linea su tutta la linea perché voi non avete idea di cosa era la vita musicale a retina negli anni 60 quindi 50 anni fa c'era un'associazione bene e merita gli Amici della Musica e questa associazione la domenica facevano un concerto opera tuttora è vero? no questo è un argomento che se ti senti Alfredo Grandini si mette a piangere perché sono postigata in pubblica pianta no 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 perché purtroppo l'Amici della Musica è stata un'associazione gloriosa che ha fatto tanto per Arezzo ha svecchiato Arezzo a parte l'invenzione del concorso polifondo che però era negli anni della fondazione del Dice no no prima prima siamo nei primi 50 51-52 quindi c'è stata l'invenzione del Gran Pino Europeo del 89 ecco del 89 qui si rimonta a 30 anni prima gli Amici della Musica una città dove nessuno andava più in là della calatina del Barberio di Siviglia portarono gli Amici della Musica la Musica alla Camera che non se ne era c'era stata negli anni 30 c'è stato un grande musicista aritino un violinista che si chiamava Brutto Tignani era un grande musicista veramente stato un grande violinista poi si è arrivato alla didattica era direttore di una scuola di tale musica che c'era qui ad Arezzo e lui ha portato la musica alla camera ha portato ad Arezzo le sonate di Beethoven ha portato ad Arezzo i quartetti di Mozart e di Ivan con pubblici di 15-20 persone che però dice Dante poca favilla gran fiamma seconda tu butta una favilla poi si incendia la foresta allora per rispondere bene alla tua domanda c'erano questi amici della musica che avevano operato questo svecchiamento ma ti facevano il concertino settimanale in un primo tempo erano ammessi soltanto i soci poi siccome i soci erano pochi e vecchi e non ci andavano fu aperto a tutti ma le serate in cui andava bene veniva a Cardo fai conto mi ricordo quando venne a Cardo con Graziosi il pubblico era duplicato perché perché Graziosi era appena uscito di Canera dopo che era ammazzato la moglie erano tutti curiosi di vedere il luxoricida che suonava questa era la situazione questa è una buona strategia di mercato di indicarsi il fatto di Crona Canera per utilizzare i concerti dopo che cosa è successo gli amici della musica hanno messo la poca favilla e poi è nata la Coradini il gruppo Coradini con un un Fosco Corti che è indimenticabile quello che non ha fatto il Corti con le Coradini a parte che ha appena fondato Vince il Polifonico anzi Vince il Polifonico prima ancora di essere ufficialmente costituito era ancora un gruppo la costituzione avvenne nell'ottobre successivo Vince il Polifonico poi c'era un altro corola la Guido Monaco quindi la vita musicale col Corti devo dire soprattutto ha avuto una grossa spinta poi è venuto il Bob Corbis e le cose sono andate a livello mondiale direi poi ci sono i concerti della fondazione la fondazione che poi se conoscete la storia si è trasformata e ora è una praticamente l'ufficio cultura del comune portato fuori dal comune con tutto lo stato particolare ora di musica oserei dire c'è neanche troppa diciamo l'alta voce non c'è l'alta voce no ma lo dico scherzando non sarà mai troppa la musica però se voi pensate in questi quest'anno da da gennaio a giugno il primo semestre di quest'anno i concerti della fondazione i concerti della Voscopis i concerti della Corradini dei concerti anche al circolo artistico perché anche il circolo artistico fa concerti e poi quell'associazione come si chiama quella del Macri Arsnova e noi abbiamo avuto di nuovo a Cardo abbiamo avuto Bollani abbiamo avuto un sacco di musica quindi io non rimpiango niente pensate questa è una cosa veramente curiosa i concertini domenicali degli amici della musica avvenivano nella saletta della cadena Petrarca in via dell'orto capienza 80 posti di solito c'erano 15 o 20 persone sapete come facevano a riempire la sala ci portavano le ragazzine del conservatorio Santa Caterina che venivano intruppate tutte uguali con quei cappottini grigio-verdi e stavano a sorbirsi la musica capite per loro era una tragedia dover subire la sciaccona di Brahms o la 111 era una tragedia per loro stavano lì come la forca a tiente questa era la situazione adesso se viene a Cardo si riempie la chiesa si riempie il teatro e poi è cambiata la sensibilità è cambiata anche la sensibilità grazie a questo al liceo musicale anche se mi devi spiegare Lorenzo se mi posso dire una cosa come mai ai concerti dei grandi pianisti De Rosa per esempio non ho visto un allievo del liceo musicale ai concerti di a Cardo non ho visto un allievo del liceo musicale questa è una curiosità che io ce l'avrei la risposta ma neanche con la pistola da tempia ve la dici allora ciao ora forse sì sì ho detto capire uno o due di fronte a una scuola con 130 alunni dovrebbero essere tutti 130 a sentire a Cardo dovrebbero essere tutti e 100 a sentire De Rosa perché ci sono ma in realtà per documentare per anche amplificare approfondire tutto questo si è creata la rivista Polifonie la rivista Polifonie questa è una bella cosa la rivista è stata fondata da Luisi sia la rivista che il Polifonico a Luisi debbbero moltissimo e la rivista aveva un assetto di livello la famosa fascia chi scrive nella rivista Polifonie è valido per i concorsi universitari eccetera poi quando Luisi è andato via la rivista lui l'ha chiusa praticamente l'ha chiusa Pedini la vuole riaprire e mi affidò alla direzione e io mi sono barcamenato alla meglio perché capite che avere articoli di alta caratura senza poter pagare nessuno e insomma io ti dico tu l'hai fatto l'articolo quanto ti hanno dato è difficile andare a un professore di livello internazionale e dire guarda io ho una rivista la voglio mantenere su un certo livello per fare articolo sì quanto mi dai io sono riuscito a fare cinque cinque numeri ora che è successo la fondazione intende proseguire però intende proseguire mantenendo la fascia e abbiamo già provveduto perché abbiamo già costituito un comitato scientifico di livello mondiale ci sono sette otto professori che provengono dal nostro Abri ci sono professori che vengono da ho visto che sono stati sono stati citati e abbiamo abbiamo di questi di questi qui abbiamo Ruini Ruini Mengozi che l'ho conosciuto l'altro giorno l'ho portato a vedere il Pionta i luoghi di Guido Monaco era estasiato perché non c'era mai stato loro non ce l'hanno la cripta di San Donato nel nel Wyoming nel Massasciose se non c'è poi abbiamo Abri abbiamo Di Benedetto quindi la rivista ripartirà con il mantenimento della fascia e questo è già l'anno scorso ci abbiamo messo anche i testi del polifonico perché la nostra ambizione è che il corista si presenti a cantare con la nostra rivista e allora abbiamo due formati questo formato qui della rivista con articoli culturali e il formato grande quando ci pubblichiamo i testi quindi un'altra delle grandi cose della nuova fondazione è aver voluto riportare la rivista a livello di fascia che cadenza uscirà? semestrale quindi due fascicoli ultima cosa le faccio una girazione le rego si l'essicroce l'estetica dove dice che tutti gli italiani fino a 18 anni possono essere tutti poeti dopo i 18 che continuo a scrivere poesie o è un poeta vero o è un cretino io poeta vero non lo sono cretino nemmeno ho scelto la via di mezzo cantante Fabrizio De Andrè che afferma questo oggi abbiamo una giornata un po' dedicata a lui abbiamo iniziato col buongiorno sulla buona novella e la sera sarà conclusa con il concerto quindi oggi la giornata è dedicata al poetaggio 9 degli ultimi le piace De Andrè? certo cosa le piace di più? ma tutto tutto io sono sono un ho tutti sono vecchio purtroppo altrimenti non sapremo quante cose possiedo i dischi originali oggi ci sono le ristampe ma io ho tre o quattro prime edizioni io possiedo anche l'originale crepate di rabbia l'originale del disco coi Beatles che attraversano questo disco quello vero non è la ristampe quello originale e invece un'ultima domanda un po' personale sappiamo che se Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana e nel 2008 Sarkozy invece ti ha creato Cavaliere dell'Ordine 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 dell'Academic nel ricevere questi riconoscimenti soprattutto dato che non sono così scontati per una vita spesa all'insegna della cultura come ti sei sentito? allora cosa hai provato? per il Cavalierato della Repubblica Italiana indifferenza perché come sapete e forse era il meno scontato ma un sigaro e un cavaliere non si dice nessuno famosa frase quindi mi fa piacere ma insomma no le parme accademiche invece è una cosa perché i francesi sono resti molto resti a darlo all'estero agli italiani in modo particolare però quando ci fu il bicentenario di Berlioz Arezzo è stata l'unica città d'Europa che ha celebrato il bicentenario con una edizione unica della Fantastique qui so se conoscete il carissimo amico che è un grande organista e pianista Andrea Provato lavora che ha reso nell'elenco dei concerti c'è anche l'organizzazione Opera Viva di Provato che ogni anno organizza una trentina di concerti in tutta la provincia allora io dissi l'anno prima guarda l'anno prossimo è il bicentenario di Berlioz vogliamo fare una cosa straordinaria non esiste la Fantastique per organo esiste per pianoforte in una cattiva traduzione di Franz Lister che non la fonda mai nessuno perché non funziona la fai la versione per organo trovato capì che era un suggerimento valido ha fatto la trascrizione l'ha anche pubblicata dedicata a me tra l'altro quindi mi fa piacere è un lavoro impegnativo è un lavoro altamente impegnativo prima esecuzione assoluta ad Arezzo o non c'era per caso ad Arezzo una trascetta dell'ambasciata di Firenze rimase talmente colpito che l'hanno dopo venne fuori le palme a capire e con questo dobbiamo concludere purtroppo quindi la ringraziamo tantissimo ringrazio io voi e ci vediamo a quattro chiacchiere e un caffè questo numero che è l'ultimo numero della mia gestione quindi che mantiene la fascia A per inerzia perché se se ne accorgevano ce la toglievano subito ora non fanno in tempo a toglierci perché abbiamo rimesso le cose e quindi decidemmo di pubblicare gli atti del convegno e poi c'è un'altra chicca devo dire io ho avuto l'onore e il piacere di avere Lorenzo come allievo nei corsi del liceo musicale perché anche lui è uno dei grandi usciti dal liceo musicale e gli chiesi di fare una rassegna del neomadrigalismo italiano ha fatto un lavoro e io ho riletto attentamente l'ultima parte che hai mandato rispetto ai lavori che può fare un musicologo c'è qualcosa di meno nell'approfondimento storico ma c'è qualcosa di molto di più nella padronanza del repertorio lui ha una padronanza del repertorio impressionante e si vede è stato nostro insegnante di repertorio possiamo dirlo e c'è questo articolo che leggerete con piacere su questi aspetti interessantissimi del neomadrigalismo dove è andato a pescare i esempi che sono veramente straordinari grazie a voi 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 grazie a voi